E' partita la finale di Categorio Sordienti, Salmi, Lorenzo, Anzi Nicolò, Volpi, Rolpe, Chiara e vediamo chi si porta al comando Anzi Nicolò in seguito da Volpi, Manuel Vigevano Pro M, la sgommata che non molla in seconda, poi in terza e quarta Loretto Le Marotte, ancora team ciclistica oggi attesa con Rompetti, San Andrea. La categoria invece degli allievi al cancelletto con Caironi Miriana, Bonanno Davide, Galeno.